Buon pomeriggio, ci troviamo al nuovo di via Olimpia di Castelfrentano per una delle sedute di allenamento. Oggi è giovedì, troviamo da questo lato alcuni degli allievi, c'è mister Giovanni Di Giulio anche questi ragazzi sono della categoria allievi, c'è Noé, collaboratore come e qua c'è la scuola calcio femminile, c'è mister Gabriele Di Felice C'è l'hai? Vai, chiamo io, chiamo io Sofì, vai, Sofì, uno, due, decisa Sì, buona, vai, giada, uno, due, decisa Buon, vai Lucì Uno, due, forza Buona, via, uno, due, decisa Buona, via, via, cattiva sulla palla, vai Sì, buona, via, uno, due, vai Meglio, vai, venì Uno, due Sì, brava Vai, hop Vai, Carver, uno, due Sì, brava Ho, su, decisa Va bene Vai, Lore Uno, due Buona Vai, Gianni Buona Vai, Sofì Vai, Sofì Uno, due Sì, brava Vai, via, piano Piano, piano, c'è il battito Eeeh, brava Tu, uno, due Sì, buona Vai Eci, salto Sì La nostra squadra Il nostro gruppo delle ragazze della scuola calcio femminile Mister Gabriele di Felice Buona Brava Uno, due Vai, venì Basta Sì Uno Due Vai, già lì Buona Vai, venila Dove vedi Bravo Vai, Lore Uno, due Sì, buona Brava Uno, due Mancino 5 euro, Lorenza Vista, Lorenza Vai, Lore 5 euro, Lore Via 5 euro, Lorenza 5 euro, Lorenza Via Uno, due Guarda Brava Uno Due Guarda Vai Sì Oddio Oddio Sei pronta? Via Vai Precisa Via Uno Due Ok Ciao Ciao mister Ti ho portato il programma della scuola calcio dal 10 in poi Sono solo Ciao Allora Allora Adesso L'ultima sessione Non c'è ricordo La palla Non c'è ricordo Non c'è ricordo Non c'è ricordo Non c'è ricordo Non c'è ricordo